Ciao a tutti, vi spiegherò un nuovo prodotto che è proprio appena arrivato della linea Incarose che è il collagene, il collagene da bere. Il collagene è una proteina strutturale del nostro corpo che serve per mantenere in funzione sia a livello di pelle ma anche a livello di articolazioni ossa. Qui la troviamo con i tre aminoacidi che la costituiscono e in più contiene l'acido ialuronico idratante e a livello proprio della nostra pelle, va a lubrificare anche le articolazioni, in più contiene anche il polipodium rame che mantiene in funzione il nostro tessuto connettivo e anche la vitamina E, dunque una protezione dello stress ossidativo con azione antiossidante. Viene utilizzato per mantenere in funzionalità la pelle proprio per questa azione su antiossidante ma proprio per mantenere in struttura diciamo tutto il viso e va benissimo sia in caso di pelle più matura che anche pelle che ha perso tono per cui perdita di peso, mi cede un po' il tessuto per cui va benissimo anche in caso di forte dimagrimento per evitare la formazione di smadiature e anche in caso di meno pausa perché si perde un po' di acqua a livello proprio cutaneo per cui si può soffrire anche più di secchezza sia a livello delle acute ma anche ad esempio a livello vaginale per cui questa va benissimo. Una bustina al giorno vi consiglio di berla dopo il pasto perché è una proteina e va ad assorbirsi meglio diciamo a livello del pasto per cui una al giorno, c'è un trattamento di 20 giorni.